Oggi possiamo dire a tutti gli effetti che il parco si realizzerà. Abbiamo presentato l'esecutivo pronto per la gara d'appalto e dentro marzo verrà realizzato il primo stralcio del primo lotto. Quindi a tutti gli effetti possiamo dire che il parco verrà realizzato come abbiamo annunciato all'inizio del nostro mandato. Un mandato dura 5 anni e noi stiamo dimostrando che tutti gli impegni che ci siamo assunti li stiamo portando a termine. Con 320 metri quadrati di superficie interamente ricoperta di un materiale anticaduta secondo le più recenti normative in tema di sicurezza, giochi di equilibrio, scivoli, aree verdi di intrattenimento, sedute particolari che ricorderanno un aereo tanto per richiamare la precedente vita di quest'area ed un collegamento con il vicino asilo nido girasole è sicuramente il top di gamma in provincia per questa tipologia di spazio. Ma questo non è che il primo di tre stralci di lavori che entro tre anni porteranno alla realizzazione di un primo comparto per una spesa totale di 576 mila euro del progetto esecutivo che riguarda un'area di 45 ettari che sarà così il parco cittadino di Fano nell'area dell'ex aeroporto con aree sportive, spazi creativi e di intrattenimento e riconversione di coperture esistenti polifunzionali. Il parco urbano di Fano sarà una pepita verde nella città collegato con il quartiere del Valato da direttrici a mobilità dolce ed anche con il resto della città per consentire a tutta la comunità fanese di usufruire di questo polmone verde. La morfologia di quest'area della città ultimati i lavori non sarà più la stessa. Verrà realizzata un'ampia zona boschiva a ridosso di via Papiria e un'area umida ed una moderna concezione delle direttrici carrabili racchiuse da verdi collinette che renderanno il tutto più omogeneo e moderno. Ma per arrivare sin qui il camino è stato lungo, ben di quattro anni. Sì perché il parco che immaginiamo è un parco non solo attento all'ambiente e alla natura ma anche alla socialità che deve vivere in quegli spazi e abbiamo pensato di partire da un investimento che l'anno scorso abbiamo fatto un'estrazione comunale, quello cioè del nuovo centro nido girasole proprio al confine dell'area del parco urbano e quindi abbiamo pensato in qualche modo di prolungare questa esperienza individuando nella prima parte che andremo a interessare con 176 mila euro di intervento una zona attrezzata per l'infanzia in modo che il tema della natura e dell'ambiente si possa pienamente intracciare con quello della fruibilità degli spazi dalla parte delle bambine e dei bambini in modo quindi di rappresentare pienamente il senso di quel parco che tanti anni fa una figura illuminata come Lucio Polverari aveva immaginato. Ora il primo step sarà la bonifica bellica essendo stata una zona questa fortemente militarizzata, bombardata e minata durante la guerra mondiale, bonifica già predisposta dal comune. Dopodiché si passerà all'assegnazione dei lavori che dovrebbero durare 60 giorni con il taglio del nastro previsto per marzo 2019.